Voi porterete nel sinodo la voce delle chiese particolari ed è una grande responsabilità portare le realtà e le problematiche delle chiese per aiutarle a camminare su quella via che è il Vangelo della Famiglia. Così Papa Francesco si è rivolto ai 191 padri sinodali e ai 16 esperti e ai 38 uditori e uditrici all'inizio della prima congregazione generale del Sinodo Straordinario dei Vescovi sul tema le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell'evangelizzazione. Ed ha sottolineato che una condizione di base perché si affermi con chiarezza la dinamica della sinodalità è parlare chiaro, dire tutto ciò che si sente con paresia e farlo con tanta tranquillità e pace perché la presenza del Papa è garanzia per tutti e custodia della fede. Dopo l'ultimo concistoro febbraio 2014 nel quale si è parlato della famiglia un cardinale mi ha iscritto dicendo, peccato che alcuni cardinali non hanno avuto il coraggio di dire alcune cose per rispetto del Papa, ritenendo forse che il Papa pensasse qualcosa di diverso. questo non va bene, questo non è sinodalità perché bisogna dire tutto quello che nel Signore si sente di dover dire senza rispetto umano, senza pavidità e al tempo stesso si deve ascoltare con umiltà e accogliere con cuore aperto quello che dicono i fratelli. Con questi due atteggiamenti si esercita la sinodalità per questo vi domando, per favore, questi atteggiamenti di fratelli nel Signore parlare con paresia e ascoltare con umiltà